Mister, una sconfitta immeritata, soprattutto per gli episodi che vi hanno giocato contro. Oggi è stata una dimostrazione, dopo quella di domenica, che questi ragazzi possono starci in questa categoria, perché oggi abbiamo giocato anche al cospetto di una squadra veramente forte negli uomini. Dal mio punto di vista, almeno quello che ho visto dalla panchina, l'abbiamo messa a tratti in difficoltà. È chiaro che già è due volte, quindi sono due indizi, dove per mancanza di letture, per situazioni anche di palla da fermo, dove c'è il singolo che poi deve andare a fare la differenza, prendiamo i gol. Non vorrei il terzo indizio, che sarebbe poi la prova che c'è qualche problema. Non la reputo una sfortuna, perché la sfortuna, dal mio punto di vista, è un'altra cosa. Benissimo per quanto riguarda l'atteggiamento, nonostante che eravamo sotto di due gol, ci abbiamo sempre creduto e per poco l'andavamo a riprendere. Però dobbiamo stare molto più attenti su alcune situazioni, perché poi in questo momento la prima distrazione ci fanno gol. Anche il rigore è sbagliato, anche quello non è sfortuna, però. Mi riferisco anche naturalmente a quello, perché è chiaro che se, però con i secoli ma non si va molto lontano, buttandolo dentro avevamo forse più tempo per fare quello che abbiamo fatto gli ultimi dieci minuti, quarto d'ora, gli ultimi dieci minuti dopo il gol. Però questi ragazzi, ecco, da questo punto di vista non gli posso rimproverare assolutamente niente, dobbiamo continuare a credere in quello che facciamo. Abbiamo giocato con Seravezza, abbiamo giocato con l'Aglianese, abbiamo perso, però il campo dal mio punto di vista l'abbiamo tenuto molto bene, abbiamo creato dei problemi e abbiamo giocato dal mio punto di vista tratti anche abbastanza bene. Sono stati degli episodi, voi come li avete visti? Ma come li avete visti? Lederli dalla panchina è dura, quando c'è un mucchio di gente in aria fai fatica a giudicare, stai sempre a quello che decide l'arbitro, nel bene e nel male. Io faccio i complimenti ai ragazzi perché comunque per la Marignanese era la seconda partita, noi era la prima, addirittura ci hanno fermato quando si stava salendo in pulma. Dopo sette mesi abbiamo rigiocato il primo impegno ufficiale, non è mai facile, lo abbiamo visto, abbiamo trovato una squadra molto organizzata, una squadra che gioca a calcio, che prova a giocare a calcio, noi l'abbiamo messa subito giusta, l'abbiamo presa anche nella maniera giusta a livello di cattiveria, a livello di attenzione. Poi c'è stato quell'episodio del rigore dove siamo stati bravi, il giocatore marignanese un po' polli noi perché dalla linea del fallo laterale abbiamo fatto andare in aria un giocatore e dopo c'è stato il forcing finale, sai quando poi nel finale la squadra avversaria mette dentro gente che ha centimetri non sai mai come va le partite. L'unica cosa che posso dire ai miei ragazzi, rifaccio i complimenti ma sul 2-0 abbiamo avuto quelle 4-5-6 ripartenze dove si poteva mettere già prima il risultato, la parola fine alla partita e lì bisogna trovare la cattiveria giusta perché non sempre se no poi ti va bene. Allora, intanto complimenti per la partita nonostante una sconfitta immeritata, gli episodi tu li hai visti dal campo, per noi il rigore non c'era a favore dell'aglianese e nel finale forse meritavate il pareggio. Sì, sicuramente gli episodi hanno fatto la differenza oggi, giocavamo sicuramente con una squadra importante però questi episodi, dubbi diciamo, hanno fatto la differenza alla fine. E' vero anche per noi c'è stato il rigore, dubbio anche quello secondo me, però abbiamo fatto un'ottima prova e sicuramente meritavamo qualcosa di più come domenica scorsa a Seravezza. Però se continuate così, se lavorate e evitate la nebbia di certi episodi, una mancanza di lettura delle azioni probabilmente farete un bel salto di qualità. Sì, sicuramente sì, mancano ancora 32 partite, c'è un campionato intero da giocare. Abbiamo fatto vedere delle buone cose sia domenica a Seravezza che oggi in casa e qualcosa a livello di classifica, a livello di punti sicuramente ci manca perché abbiamo fatto zero punti in due partite, meritando sicuramente qualcosa di più, però anche in settimana lavoriamo molto bene anche con il mister, cerchiamo di giocare sempre dal basso. Sicuramente sono certo che faremo bene in questo campionato di Serie D. Avete preso il primo gol su un'azione di calcio d'angolo dove loro hanno fatto uno schema che forse vi ha un po' messo in confusione? Più che lo schema è stata una palla ribattuta lì in mezzo all'area, vicino all'area piccola, c'è stato un po' di confusione. Sicuramente un errore da non ripetere perché era alla fine del primo tempo, dopo aver fischiato alla fine del primo tempo, è una mazzata sicuramente. Però anche nel secondo tempo, dopo il rigore loro, abbiamo risposto sicuramente bene cercando di riprendere la partita e c'eravamo praticamente riusciti, solo che è mancato veramente un niente per portare a casa almeno il pareggio.